ehi ehi oh che hai fatto solito io sono andata a fare un'escursione bellissima magari vieni con me la prossima volta che dici così noi leggiamo anche le montabike guardi un attimo amore mio tu non puoi stare sempre chiuso in casa non funziona così la vita esci fai uno sport vai a ballare vai a pattinare fai quello che ti pare importante che esci da questa casa volevi fare un corso di chitarra no ma le paghi tu le lezioni comunque non puoi stare solo solo in casa posso andare alla confraternita lì la frequenza è gratis cioè noi siamo qua da sei mesi e tu non sei riuscita neanche a farti un'amica ce l'avevo gli amici per colpa tu ho dovuto abbandonare allora esci e vai a conoscere altre persone io voglio tornare indietro voglio tornare a casa allora che tu lo voglio a noi è questa la nostra ragazzi e non alzare la voce è colpa tua a me non piace stare qui neanche a clara